Ciao! Nulla, faccio questo video per augurare a tutti buon Natale, buone feste e così. Questo è il mio alberello, tutto distrutto perché qualcuno che tra l'altro è là sotto, tipo da queste parti, mi ha distrutto tutto, tipo qua c'è un ramo che l'ha staccato, mi sa, queste ghirlande sono, vabbè, insomma, me l'ha attivato giù, però vediamo se si vede meglio da qua. Infatti il mio alberello quest'anno al momento è senza luci perché appunto la bestia se l'ha mangiata e quindi siamo rimasti con l'alberello spento. Tra l'altro non nemmeno ho potuto mettere sotto i regali, cosa che ho sempre fatto, io ho dovuto metterli qua in cima, come potete vedere, oh, eccoli qua, vabbè, questo non c'entra nulla, questo mi è stato regalato, 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 questo è da regalare, questo è da regalare, questo anche, questo anche, e invece questo mi è stato regalato. E quindi quest'anno i regali sono in cima al mobile. E nulla. Vediamo se la bestia è ancora qua sotto, se si vede magari meglio, ebbè, insomma, questa luce non favorisce. Eccolo! Guardatelo l'infame, guardatelo. Ho dovuto mettergli là l'altra puntina, così lui dorme sotto il calorifero. Perché altrimenti mi si addormentava sul... come si chiama? Sul piedistallo. Sì, sì, qua c'è un ramo staccato. Adesso la riattacco. Quindi nulla, buon Natale e buone feste a tutti. Ciao!